Mancano esattamente più di tre mesi e mezzo circa alla campagna elettorale per il nuovo sindaco a Racalmuto, ma già qualcosa si muove. Dopo aver rotto gli indugi da tempo, il giovane Peppe Brucculeri, la cui candidatura come noto è nata da Facebook più di due anni fa, ma questo lasso di tempo non ha fatto tramontare al 42enne ex commerciante l'idea di scendere in campo. Io ci metto la mia faccia, ha dichiarato nelle scorse settimane, e non ho nulla da temere. Sembra ufficiale anche la candidatura di Carmelo Mulè dell'Udc, ma non tutto lo scudo crociato sembra virare dalla sua direzione. Il medico Biaggia Dile, come ribadito nella nostra trasmissione a Tu per Tu, sta cercando di formare la sua squadra e proprio l'altra parte dell'Udc potrebbe dirottarsi sulla sua candidatura. Ma attenzione, sono tutte supposizioni. Invece, più che una certezza, la candidatura sindaco di Enzo Sardo, il comitato promotore del laboratorio politico Racalmuto Domani, scioglie ogni riserva e propone la candidatura di Enzo Sardo a sindaco di Racalmuto per le prossime consultazioni amministrative comunali. Del comitato promotore di Racalmuto Domani fanno parte professionisti, uomini di cultura giovani, imprenditori, artigiani, commercianti e protagonisti a vario titolo della vitalità civica del paese, tra cui Lillo Alaimo di Loro, Selene Arnone, Luigi Capitano, Vincenzo Casodino, Luigi Castiglione, Antonio Catanese, Simone Craparo, Lillo Sardo, Lillo Taibbi e tanti altri. Ha già delineato la traccia di un progetto per il buon governo di Racalmuto, che sarà presentato nei prossimi giorni per costituire una base di confronto con la cittadinanza per la stesura del programma partecipato e condiviso con i cittadini di Racalmuto. Noi di Studio 98 vi invitiamo a seguire una nuova puntata del nostro settimanale A Tu per Tu, la storica trasmissione della nostra emittente in onda giovedì sera alle ore 21, venerdì replica alle 15.40 e ancora il sabato alle ore 23, la domenica alle 15.20. Non mi annunciamo nulla sul nome del prossimo ospite, ma potrebbe essere una validissima candidatura per le prossime elezioni comunali, figura ben nota e gradita a Racalmuto. Ma non mi sveliamo nulla, seguiteci giovedì sera.